Mitiano, c'è davvero un peccato questa sconfitta con il campo basso che potrebbe costare i play-off. Sì, sì, perché noi abbiamo fatto una bella partita, non meritavamo di perdere, ma è andata così. Adesso sono rimaste tre partite dove possiamo ancora sperare. Senti, quanto incide tutto quello che sta accadendo in questi giorni intorno alla squadra? No, penso che noi non dobbiamo pensare a queste cose, noi dobbiamo fare i professionisti e pensare solo a giocare a calcio. Senti, probabilmente hai fatto la miglior partita con la maglia del terreno, almeno giudizio personale, e questo è coinciso con il cambiamento di modulo. Ti trovi meglio col 4-4-2? Vabbè, mi trovo bene anche col 4-3-3. Quello che mi chiede il mister, quello faccio. Sì, domenica diciamo che ho fatto una bella partita, ma... Sì, abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a concretizzare, e speriamo che domenica, anche con un po' di fortuna, riusciamo anche davanti alla porta a fare gol. Senti, sai che il derby è molto sentito, a livello di tifo, poi insomma sono due città vicine Teramo e L'Aquila. Insomma, play-off o no, questa è una gara da giocare bene? Sì, sì, normale. Sarà una partita difficile, lo sappiamo che squadra è L'Aquila e sicuramente sarà una bella partita, perché possiamo ancora sperare per andare anche ai play-off. Tu quante probabilità dai al Teramo di centrare questo sesto posto, che sembra davvero difficile? Finché c'è speranza noi faremo di tutto per andare ai play-off.